Omar Hassan, la tua più grande opera è esposta qui a Malpensa, l'abbiamo alle tue spalle, che cosa significa? Allora, questa sì, è l'opera più grande che abbia mai dipinto, sono praticamente 9 metri per 2 di tela e sono delle luci che mi impegno a dipingere da tanti anni e sono luci che auguro a chiunque, siamo tutti in cerca di luce, il bene o il male e credo che alle porte di Milano, all'arrivo o partenza da un luogo sia un punto dove per essere illuminati possa far bene. Il vice sindaco di Milano nel suo discorso ha detto che Milano ti vuole bene, che cosa significano per te queste parole? Beh, per me è motivo di orgoglio perché io Milano l'amo, è la mia città e nel bene o nel male l'amo, quindi saper di essere voluto bene nella propria città penso che sia un'ottima cosa.